Direi che siamo amareggiati per aver perso, per aver perso una finale, delusi pure, però la partita ce l'abbiamo giocata, abbiamo fatto il nostro meglio con le sbagli, però forse provocati dalla loro difesa. Comunque Cantu ha fatto un bel torneo, abbiamo lottato, abbiamo fatto soffrire Siena, purtroppo alla fine hanno vinto loro. Perché hanno vinto Siena? Forse perché è più esperta, più abituata magari a giocare a questo tipo di finali? Può essere, può essere un fattore della loro esperienza, può essere che noi abbiamo fatto degli sbagli, diciamoli così stupidi, soprattutto nella seconda metà del terzo quarto, e loro sono stati bravi a approfittare. Poi è chiaro che noi fisicamente siamo un po' meno di loro, però comunque ci siamo avvicinati un po'. Sì, sì, può essere. Sai, quando vai sotto dei dieci punti, poi per riprendere la partita come abbiamo fatto, devi spendere più energia. E quindi quello è stato un problema, alla fine siamo arrivati, ma non ce l'avevamo più, e in momenti clavi loro sono stati più chiari.